L'ISDTQ8 Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo l'ISDTQ8, caricabatterie multifunzione dalle caratteristiche molto interessanti, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo il caricatore, un manuale ed un set di sticker. L'ISDTQ8 ha dimensioni piuttosto contenute, infatti è un quadrato di appena 8x8cm, con uno spessore di 3cm. Visto che si tratta di un caricatore molto piccolo non dispone di un alimentatore integrato, per questo motivo sarà necessario collegarne uno esterno. Come abbiamo visto qui sul canale esistono diversi modi per alimentare un caricabatterie. Possiamo usare un alimentatore semplice come questo Thunder T350, uno un po' più avanzato come il Toolkit RC P200, o se avete un alimentatore da PC si può usare un adattatore come l'HX229. Se volete maggiori info su queste componenti in descrizione vi lascio tutte le mie recensioni. Ritornando al caricatore, sul lato sinistra abbiamo l'ingresso per l'alimentazione e la porta USB per l'aggiornamento firmware. Il connettore è un XT60 e l'alimentazione deve essere compresa tra 10 e 32V. La porta per aggiornare il firmware invece è una microSB, più avanti vedremo anche come fare l'aggiornamento. sul lato destro abbiamo le connessioni per collegare la batteria da ricaricare. Il cavo bilanciatore può spittare il lipo fino a autocelle, mentre il cavo di potenza è il classico XT60. Sul lato posteriore abbiamo la ventolina che aiuta a tenere bassa la temperatura durante il funzionamento. Nelle prime prove che ho fatto la ventolina non risulta mai essere eccessivamente fastidiosa, anche quando il caricabatterie sta lavorando a pieno regime. Sul fondo abbiamo riepilogate le specifiche. Come abbiamo visto possiamo alimentare il caricatore con una tensione compresa tra 10 e 32V. La corrente massima in ingresso è di 20A, così come la corrente massima in uscita è anch'essa di 20A. La potenza massima in uscita è di 500W, valore ben sopra la media per caricabatterie di queste dimensioni. A questo punto prima di vedere tutte le impostazioni che ci mette a disposizione questo Q8, procediamo con l'aggiornamento firmware. Andiamo nella pagina a supporto del sito ufficiale ISDT e scarichiamo il software per il nostro sistema operativo. Io Windows quindi scarico questo. In descrizione vi lascio il link diretto a questa pagina così potete accedervi subito. Una volta scaricato e installato il software ci apparirà questa schermata. A questo punto possiamo collegare il caricatore. Per aggiornare il firmware non è necessario fornire alimentazione esterna, ma è sufficiente collegare il cavo USB. Perfetto, il programma ha riconosciuto il caricabatterie. Come vedete il Q8 ha firmware 1.0.0.22, mentre al momento è disponibile la versione più aggiornata 1.1.0.5. Quindi procediamo all'aggiornamento cliccando Update. Perfetto, aggiornamento completato. Come vedete ora il Q8 ha l'ultima versione disponibile. Il display è un IPS da 2.4 pollici di buona qualità, e ha questi 3 tasti integrati per navigare all'interno dei vari menu. Le due frecce ci permettono di andare su e giù mentre il tasto centrale ha una doppia funzione. Se premuto velocemente serve per confermare, mentre se premuto a lungo serve per tornare indietro. Il Q8 ha due menu distinti, per accedere al menu di sistema teniamo un premuto a lungo il tasto centrale. Qui possiamo cambiare varie impostazioni del caricabatterie, anche se bene o male possiamo lasciare tutto così com'è. A mio parere l'unico settings da considerare è il primo, che ci fa scegliere l'input minimo per alimentare il caricabatterie. Questa impostazione è utile se alimentiamo questo caricatore con una batteria più grande, infatti potrebbe capitare che vogliamo portarci il caricabatterie quando andiamo a volare, e usarlo per ricaricare delle batterie più piccole nei momenti di pausa. In questo modo se ad esempio usiamo una 6S, settiamo la tensione minima a 21V, impedendo che il caricatore faccia scaricare la lipo sotto questa soglia, e di conseguenza rovinarla. Se invece usiamo un alimentatore questo parametro non è rilevante, e possiamo mettere anche il valore minimo di 10V. Il secondo menu è quello principale che usiamo per ricaricare le batterie, per accedervi basterà una veloce pressione del tasto centrale. In TASK scegliamo il programma da usare, in particolar modo ci interessa Charge per ricaricare la batteria, o Storage se vogliamo metterla in questo stato. Qui scegliamo il tipo di batteria da ricaricare, quelle che si usano solitamente per FPV sono le LiPoHV, le LiPo e le LION. Condizione va bene il valore predefinito, e inoltre vi sconsiglio di modificare questo parametro. In Celle scegliamo il numero di celle della batteria da ricaricare, come abbiamo già visto si può scegliere da 1 a 8S. In corrente scegliamo la corrente di carica che va impostata in base alla batteria che vogliamo ricaricare. Infine quando siamo pronti facciamo partire la ricarica con START. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, e diciamo subito che questo Q8 è un ultimo caricatore, ha tutti i programmi che ci servono, un'ampia compatibilità con vari tipi di batterie, ed una ventola che tutto sommato non risulta essere mai troppo rumorosa. Per quanto riguarda le specifiche sono decisamente buone, parliamo di un output di ben 500W e 20A, che ci permettono di caricare batterie fino a 8 celle ad alte capacità. A tal proposito però se volete usarlo al massimo delle specifiche dovete valutare un alimentatore che abbia queste caratteristiche. In alternativa se pensate di usarlo con l'IPA6L da 1300mAh o superiori, anche il piccolo P200 è più che sufficiente per farlo andare al massimo regime. In conclusione posso dire che se state cercando un caricabatterie compatto ma dalle buone prestazioni, questo ISDTQ8 è un'opzione da prendere seriamente in considerazione, ha tutto quello che serve e durante le varie ricariche non mi ha mai dato nessun problema. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso i link in descrizione o diventando i miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.